Bonaccini, cambiamo di tutt'altro tono, diciamo, è quello che è il dibattito che si sta sviluppando sulla vicenda della Basilicata. Però mi fa piacere che ci sia lei qui, perché lei quando ha vinto l'ultima volta in Emilia Romagna, ha vinto in un contesto complicato, ma dove lei è riuscito a mettere insieme diversi pezzi che l'hanno portata poi a vincere. Ecco, perché in Basilicata è così complicato mettere insieme tutti? E soprattutto il fatto che Domenico Lacerenza è stato contattato, almeno come la racconta lui, sembra che sia stato contattato così, però ancora non aveva detto sì, no, ci sto pensando, eppure il suo nome l'ha già finito sui giornali, cioè qualcosa è andato storto anche nella gestione del caso Lacerenza, o mi sbaglio? Proviamo anche qui a mettere in fila le cose, lei citava la mia vittoria quattro anni fa, eravamo in un contesto difficile, parlo del centro-sinistra ovviamente, e del PD, perché il centro-destra aveva vinto 10 regioni su 10 in due anni e mezzo, e tutti i numeri ci davano sconfitti, o meglio, scusi, le previsioni. Il Movimento 5 Stelle aveva preso il 28% l'anno prima le politiche, primo partito di Emilia Romagna, e poco più di un anno dopo andammo al voto, non facemmo l'alleanza con i 5 Stelle perché non ne volevano sapere, abbiamo vinto di quasi 10 punti, perché poi alla fine viene premiato, certo, conta anche molto il candidato, la candidata, l'abbiamo visto con Todde in Sardegna, ci mancherebbe, conta il progetto politico, il programma, quello che mi viene da dire è questo, poi le arrivo subito al punto. In Sardegna abbiamo vinto di pochissimo, va detto, con una coalizione di centro-destra che come lista era più avanti del centro-sinistra e soprattutto aumentati i voti addirittura rispetto alle politiche dell'anno scorso. Abbiamo visto in Abruzzo si è replicato, però anche in Abruzzo attenti, era un centro-destra che pensava di vincere di 20 punti fino a pochi mesi fa, ha vinto di 6 punti, non c'è il voto disgiunto, il centro-sinistra unendosi ha dimostrato di essere competitivi nella regione che è un po' la cassaforte politica di Giorgia Meloni, si è candidata lei lì in un collegio, Marsilio è stato il primo presidente, lei ricorderà, di regione, eletto 5 anni fa per Fratelli d'Italia. In Basilicata i numeri delle politiche, partiamo da qui, direbbero, a differenza dell'Abruzzo e persino della Sardegna, che se il centro-sinistra stesse unito poi non è mai replicabile in sé un voto tra un'elezione di un certo livello istituzionale e un'altra. Ma la Basilicata è una regione con una storia forte di centro-sinistra e i numeri delle stesse elezioni politiche di poco più di un anno fa, del 2022, in autunno, dicono che il centro-sinistra avrebbe un ampio margine sulla carta, avrebbe un margine consistente. È evidente che non si può fare così il calcolo, quello che risulta evidente è che se ognuno pensa più all'interesse di parte e di partito, o di lista, rispetto al progetto comune è evidente che si rischia di andare separati, divisi e di consegnare alla destra il rischio di una vittoria, anche quando magari i grandi meriti non li avrebbero. L'unica cosa che io posso dire, io la Cerenza non lo conosco. Sì, solo per capire questo, perché chi ha questa responsabilità? Adesso pochi secondi fa è arrivata una di quelle sue battute che Matteo Renzi diceva su questo, non lo batte nessuno, Renzi dice che hanno scelto un oculista perché non li hanno visti arrivare. Dice, so che anche lei che è un fine umorista, un sorriso in una giornata che per la vostra legione, se vado a quei casi in Bologna, non è simbatico, un sorriso gliel'abbiamo forse strappato. Hanno scelto un oculista perché non li hanno visti arrivare, dice Renzi. Guardi, io provo a dirgliela così, adesso non c'entra tanto Renzi, ma allora quelli che hanno scelto Soru in Sardegna non hanno visto arrivare né l'uno né l'altra, visto che sono nemmeno arrivati al 10%. Cosa voglio dirle? Voglio dirle che prima ancora che individuare responsabilità, io penso si debbano usare le prossime ore, se posso permettermi, per chiedere uno sforzo di unità. Il centro-sinistra è chiaro che deve trovare le basi di un programma. E quindi cambiare anche il candidato volendo? In nessuna direzione. Cioè cambiare anche il candidato, semmai? No, guardi, io di questo non me ne occupo, ci mancherebbe altro, se ne devono occupare i livelli locali in contatto con chi dirige il partito a livello nazionale. Ma quello che le voglio dire è, non è detto che si debba mettere per forza insieme tutti, le ho raccontato il mio caso e vincemmo lo stesso, ma in una stagione in cui la destra ha questo vento a favore che sentiamo, sarebbe bene chi è alternativo e opposizione in Parlamento alla destra e spesso nei territori. Io vedo che qui in Emilia-Romagna e in tantissimi comuni stiamo riuscendo a mettere insieme da quelle forze che si richiamavano al terzo polo fino anche persino al Movimento 5 Stelle, in molti casi. Io che non governo con i 5 Stelle le dico che in particolare al Sud, senza i 5 Stelle è complicato avere i numeri per vincere, per quanto hanno ridotto il loro consenso anche le regioni. Altrettanto le dico che al Nord in futuro è impossibile vincere se mettiamo solo insieme PD e 5 Stelle. Io chiedo a tutti uno sforzo di responsabilità per cercare di ripartire a trovare le ragioni per stare uniti. No, è chiaro, solo che ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Giusto, giusto, non fa una grinza. Il tema è che...